Presidente, forse è stata una presentazione meno pomposa, come ha detto lei rispetto all'anno passato, si guarda più al concreto, niente proclami, ma insomma, quest'Arezzo cosa si prefigge per questa stagione? Cosa si prefigge non lo dico più, ovviamente, però è un Arezzo concreto e diciamo che a me fa piacere perché ci sono molti giovani, io credo nei giovani, quindi credo che quelli come me devono fare un passo indietro, lasciare un poltrone e dare più spazio, siccome gli do fiducia sono certo che ce la ripagano. Poco fa si è fermato a parlare con Mr. Bellucci, possiamo sapere di cosa avete parlato? No, volevo sapere lui come si trova, che impressioni ha avuto di questa squadra perché è chiaro abbiamo cominciato adesso e gli ho detto che ci deve dare 100, io voglio 110. Risolta l'agibilità dello stadio, risolti sembra anche il Premier Caselle, quindi adesso insomma si va avanti anche per il progetto, per il centro sportivo. Sì, andiamo avanti su tutto, non voglio essere polemico sull'agibilità dello stadio, io l'ho scritto su Facebook, vorrei sapere quanti in Italia di stati che ci hanno, oggi abbiamo scoperto in Italia che esistono i terremoti e quindi anche gli stati devono avere quelle misure, non commento di più.